Ben trovati, ben trovati qui al nostro terzo appuntamento, per chi si fosse sintonizzato sull'ora, io sono Vittoria Cerreti e sono una psicologa clinica esperta in psicologia dell'invecchiamento. Sono qui perché oggi vorrei riprendere insieme a voi il discorso già affrontato sulle emozioni, emozioni che come abbiamo detto fanno parte di noi, vivere alcuni tipi di emozioni che noi definiamo come emozioni negative, come l'ansia o la paura in alcune situazioni come quelle di oggi, di questi giorni abbiamo detto che è del tutto normale, è fisiologico e quindi in qualche modo l'ansia e la paura, queste emozioni negative possono anche proteggerci perché ci fanno percepire un pericolo e quindi permettono che noi mettiamo in atto delle difese, che ci tuteliamo, che ci proteggiamo attraverso vari tipi di azioni. Però questo non è sempre vero, nel senso che le nostre emozioni non sempre sono delle nostre alleate, può accadere anche che queste ci alterino la percezione che noi abbiamo del pericolo. Facciamo un esempio con la condizione che viviamo noi oggi, quotidianamente. Presi dall'ansia, dall'angoscia e dalla paura potremo essere portati a massimizzare il pericolo di contagio, che è un rischio che in fondo c'è e quindi potremo non riuscire a tenere a bada questa preoccupazione e questa angoscia e non dormire la notte, quindi a soffrire di insonnia. Oppure la paura del contagio, la preoccupazione ci potrebbe portare ad adottare delle misure, a rispettare le norme igieniche superando certi limiti, quindi a pulire in maniera ripetitiva e costante, quasi ossessiva, il nostro ambiente domestico presi appunto dal panico, appunto del contagio. Oppure potremo vivere in maniera con angoscia il contatto con i familiari, i nostri conviventi all'interno della nostra casa, proprio sempre per questa paura del contagio. In questo caso si può dire che stiamo massimizzando in qualche modo il pericolo perché la nostra mente sta vivendo con ansia, con preoccupazione e con angoscia un pericolo che di fatto c'è, è presente. In altri casi potremmo essere portati, sempre come meccanismo di difesa della nostra mente, a invece minimizzare il problema, perché con varie giustificazioni, magari dicendo a noi stessi, rassicurandoci, dicendo che nella nostra zona, nel nostro territorio in cui viviamo, in fondo non ci sono poi così tanti contagi e quindi il pericolo è diminuito e possiamo essere portati ad abbassare le nostre difese, quindi essendo un pochino più, meno rigorosi nel rispetto di alcune norme, come ad esempio l'uso della mascherina, l'uso dei guanti. In realtà questi meccanismi sono dei meccanismi psicologici normali, però siamo invitati, quello che dobbiamo fare è essere il più possibile realistici in ogni situazione, quindi essere consapevoli che il pericolo e il rischio c'è sempre, però bisogna rimanere aderenti il più possibile alla realtà dei fatti, bisogna essere consapevoli che ci dobbiamo adattare a questa nuova situazione e siamo tutti noi responsabili, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Farci prendere dalla paura e dall'ansia è in realtà molto limitante, non è di aiuto né a noi stessi né agli altri e quindi vi invito, anzi ci invito ad agire con equilibrio e con buon senso. A presto!